Ciao ragazzi, bentornati sul canale, come state? Oggi ho deciso di tirare fuori dall'archivio una tipologia di video di cui non mi occupo da un bel po' di tempo. Sono gli alternative, mi avete chiesto di riproporne di nuovi con vari temi e inizio parlando di activewear. Oggi quindi parliamo di alcuni brand sostenibili che producono abbellamento sportivo. Avete visto su Instagram che ho ripreso dalle larmi, ripreso, ho incominciato dalle larmi, veramente. E proprio per questo motivo mi sono scontrata con il cercare abbellamento sportivo che fosse sostenibile. Ne avevo già di mio perché comunque a me piace lo sport, non è che lo pratico così tanto, però sono sempre andata un po' a correre, perché ho fatto spesso sport nella mia vita, quindi comunque avevo un abbellamento sportivo di tanti tanti anni fa, parlo anche di 7-8 anni fa, che avevo sempre nell'armadio, che usandolo non tantissimo erano ancora di buone, quindi ho sempre utilizzato quello, però non era sostenibile. Diciamo che i marchi che avevo comprato erano Decathlon, Nike e basta, che non si possono definire sostenibili. Anche se ho visto che una parte di Decathlon, soprattutto la parte di yoga, ha del cotone biologico. Che sapete, non vuol dire praticamente nulla, cioè non vuol dire che il marchio sia sostenibile, però è sempre un piccolissimo passo verso la sostenibilità. Quindi se proprio volete, il riparto yoga di Decathlon è fatto con cotone biologico, che è appunto una minima percentuale di sostenibilità. In concomitanza mi avete chiesto se c'erano appunto brand che vestivano sostenibile per fare sport, e mi sono messa alla ricerca. Quello che io non so adesso, ad esempio, è un completo, non vedete la parte sotto, cioè in realtà non vi posso vedere la parte sotto perché ho sulla pancia un maglioncino come una vecchia, perché... vabbè, questa la taglio. Questo è un brand californiano che si chiama Girlfriend Collective e che crea dalla plastica riciclata tutti i suoi completi da sport sportivi. Dovete sapere che in America vestirsi sportivo è all'ordine del giorno, cioè gli americani il sabato e la domenica non si vestono bene come facciamo noi italiani o noi europei, insomma, che magari sabato o domenica ci tiriamo un pochino di più perché andiamo fuori, facciamo passeggiati là fuori, facciamo la gita fuori, quindi ci piace prenderci cura di noi, insomma, un pochino di più durante i fini di settimana se usciamo. Per gli americani, fine settimana, ma anche tutta la settimana, a meno che non debbano andare in ufficio, quindi vestiti da ufficio, preferiscono vestirsi sportivo. Il vestire comodo, sportivo, quindi, con questi completini, è il loro modo per uscire normale. Esco di casa a portare fuori il cane, o esco di casa con i bambini, esco di casa a farmi un giro nel weekend, sono vestiti tutti sportivi. E proprio per questo ci sono tantissimi brand americani che propongono un abbigliamento sportivo sostenibile. Ci sono anche alcuni europei, comunque adesso li vediamo tutti assieme. In realtà, piccola parentesi, avevo smesso di fare l'alternative perché non so se sono noiosi, cioè non so se sia noioso come li sto creando adesso, cioè faccio la lista di brand, vi faccio vedere cosa fanno, vi parlo un pochino del loro background. Io penso che come tipologia di video sia molto utile, perché effettivamente vi sto elencando in 10 minuti di video un sacco di brand che a cercare su Google come faccio io ci spendo 3 giornate, quindi è molto utile, creano come video, come output di video. Però non so se la formula che vi propongo sia allettante, quindi sia interessante da vedere. Avete consigli per renderla un pochino più interessante? Avete consigli magari per poter migliorare questo format che secondo me funzionerebbe, ma forse fatto così come lo sto proponendo io risulta un po' noioso? Casomai aiutatemi a capire come potrei proporlo in maniera più interessante, più veloce, se volete. Adesso vi prometto che l'introduzione lunghissima è finita, parte l'alternative, li guardiamo insieme sul computer e li commentiamo insieme. Ciao! Io direi di partire da Girlfriend Collective, che è appunto il marchio da cui ho comprato il mio completo. Il mio completino è proprio questo che vedete qua. Perché Girlfriend è un marchio sostenibile? Perché tutta la materia prima con cui è fatto è in realtà un rifiuto che viene rigenerato, quindi loro dicono che è 100% sostenibile proprio perché viene riciclata la plastica. Lo stile che propongono è sempre questo, diciamo che ci sono vari tipi di top e vari tipi di pantalone, però bene o male questo è il modello. Come vedete c'è il pantalone corto, il pantalone lungo che io ho questo, ad esempio, poi vedo adesso che hanno anche un bodysuit, quindi un costume, e anche di reggiseni, vedete, ci sono tre tipi. Il mio è proprio questo, direi, di completino, questo blu elettrico, però come vedete è tutto sold out, quindi anche io l'altra volta avrei voluto comprare un altro colore, però era già tutto sold out, quindi mi fa piacere vedere che questi brand sostenibili vada non sold out, però hanno una gamma colore veramente carinissima. Vediamo nei top cosa c'è, così vi faccio vedere un pochino tutto, hanno anche delle magliette, sempre in plastica riciclata, vedete quanti bei colori che hanno? Nella sezione FAQ troverete tantissime risposte che riguardano l'etica e come sono fatti, anche per quanto riguarda il packaging. Qua in questa sezione spiegano anche perché producono in Vietnam e non negli Stati Uniti, quindi se volete approfondire un pochino nella sezione FAQ appunto troverete molte risposte. Il secondo marchio di cui vi parlo che è amatissimo dagli americani è Lululemon. Se venite a New York vedrete tantissime donne che vestono Lululemon, le si riconosce perché il loro marchio è sempre bello in vista e come vedete creano abbigliamento sportivo di ogni genere, in realtà quindi anche giacche, maglioni, un po' di tutto. Se andiamo a vedere nel reparto donna, hanno abbigliamento per lo yoga, abbigliamento per la corsa, per l'allenamento, per nuotare e anche, mi fa ridere perché proprio questa è una cosa americana, Office Travel Commute vuol dire è l'abbigliamento per andare da casa all'ufficio, quindi è quell'abbigliamento comodo che vi serve per fare la commute, quindi il viaggio che vi separa da casa all'ufficio. E quindi hanno una sezione addirittura a parte. E questo, come vi dicevo prima, è proprio molto americano vestirsi così per uscire. Di Lululemon vi avevo già parlato come shop sostenibile quando venite a New York, appunto uno di quelli imperdibili. Hanno anche uomo e hanno anche una sezione bambina che è divisa in danza, ginnastica, ginnastica penso artistica, gym quindi palestra, tennis o to plus from, che vuol dire anche qui se vi spostate. Anche in questo caso, se volete capire un pochino di più cosa c'è dietro Lululemon, perché sono sostenibili, c'è proprio una sezione che si chiama Sostenibilità, che potete leggervi un pochino con calma. Vi spiegano perché la loro catena di produzione è responsabile e sostenibile, eccetera. Quindi, se volete, potete approfondire meglio questa sezione sul loro sito. Un marchio sportivo sostenibile, che invece è inglese, è Starseeds. Se andiamo nel loro shop, potete vedere che creano abbigliamento sportivo per donna e per uomo. Come sempre, andiamo a vedere prima la donna, scusate uomini, ma andiamo a vedere prima le donne. Loro sarebbero specializzati nell'abbigliamento per fare yoga, però in realtà, come vedete, questo abbigliamento può essere utilizzato per qualsiasi tipo di allenamento, comunque anche per stare comodi. Offrono un reso gratuito se si è in Inghilterra, quindi questo vuol dire che appunto sono inglesi. Ma c'è spedizione gratuita in tutto il mondo, quindi questo male non fa. Vi faccio vedere anche la sezione uomo, che è più, in realtà, un abbigliamento da casa, più che sportivo. E la loro particolarità, in realtà, sta nella scelta delle stoffe. Infatti, se andiamo a vedere nella sezione Our Fabrics, che vuol dire i nostri tessuti, i tessuti che utilizziamo, sono tutti tessuti un po' particolari. C'è il bambù, c'è il lino, la canapa, il poliestere riciclato, il poliestere plastica, quindi plastica riciclata, e poi questo Escafè, che è un materiale che deriva dal caffè. Inoltre, tutte le colorazioni che hanno derivano da tinture naturali, come dice qua. Un altro marchio inglese di abbelliamento sportivo sostenibile è Gilla, Gilla Active è il sito. In questo caso, la maggior parte dei prodotti è creata utilizzando tessuto di bambù. Io andrei a vederla. In questa sezione del sito troverete reggiseni e top con o senza maniche, fatti in bambù appunto. Il loro abbelliamento sportivo è solo per donne, le loro collezioni sono yoga e pilates, cardio e palestra. Bambù e Natural Fabrics, che è la sezione che abbiamo appena visto. Se volete possiamo vedere quella da palestra. E in questo caso trovate anche i pantaloni, che nella sezione bambù non c'erano, quindi forse questi sono fatti con un materiale diverso. Se volete capire un pochino di più del perché Gilla è sostenibile, possiamo andare a vedere People and Ethics. Loro producono in Cina. Sapete che produrre in Cina non vuol dire assolutamente che il prodotto non sia sostenibile, perché ultimamente, negli ultimi anni, si stanno sviluppando tantissime factories che sono invece sostenibili. Ad esempio questa che è nata nel 2003, insomma qua spiega un pochino del perché loro hanno deciso di collaborare con questa azienda e perché questa azienda evidentemente è sostenibile e non sfrutta i lavoratori che lavorano al loro interno. Hanno anche parecchie certificazioni, quindi direi che ci si può affidare e poi appunto, essendo una compagnia inglese, il team a base a Londra. Un marchio sostenibile famosissimo quanto impronunciabile è F. Jarraven, non penso di averlo detto giusto, comunque questo qua, di cui noi abbiamo comprato due zaini, uno per noi e uno per Timmy. Fa proprio abbigliamento sportivo da palestra, però troverete, a parte le giacche per l'inverno, che mi chiedete sempre tanto, quindi loro vendono giacche sostenibili. Come vedete hanno una sezione donna, uomo, hanno anche una sezione bambini. Nel reparto donna hanno più che altro abbigliamento normale da tutti i giorni, ma se andate a spulciare un pochino c'è l'abbigliamento da trekking, che potrebbe essere considerato abbigliamento sportivo, perché appunto vuole fare attività sportiva alla perda e ha bisogno di qualcosa che sia caldo e che sia anche durevole, appunto, per fare sport all'esterno. Quattro lato è più che altro abbigliamento tecnico. Anche loro hanno una sezione sostenibilità, anche in questo caso vi invito ad andare a leggervela con calma voi. Jarraven è un marchio svedese. Un altro marchio europeo di cui voglio parlare, perché lo trovo molto carino, si chiama Ambiletics. Prima di guardare la sezione sostenibilità vi faccio vedere un attimo che cos'è Ambiletics e che cosa propone. Anche Ambiletics come Girlfriends Collective utilizza poliestere che arriva dalle bottiglie di plastica. Al contrario i Girlfriends Collective che proponeva tuttine e tinta unita, loro invece vanno tantissimo di pattern coloratissimi o in bianco e nero, comunque ce n'è per tutti i gusti. Ci sono dei leggings, ci sono anche qui dei reggiseni, le shirts, ci sono anche delle felpe e dei maglioncini e degli asciugamani, dopo andiamo a vedere anche gli asciugamani magari perché sono curiosa. Comunque in generale questo è l'abbigliamento che propongono. Ok, c'è soltanto un gym towel, quindi un asciugamano per asciugarsi il sudore sacro in palestra. Vediamo anche la parte di reggiseni, questi sono gli stili. Il reggiseni è un unico modello e ci sono cinque pattern come c'erano anche per la parte sotto dei leggings. Vediamo anche in questo caso la sezione sostenibilità, giusto per capire un po' meglio. Perché sono sostenibili, da dove vengono i materiali, con chi lavorano eccetera. Vediamo di passare un marchio italiano, si chiama La Sportiva e crea abbigliamento tecnico soprattutto per chi si allena in montagna, comunque fa passeggiata in montagna o percorsi abbastanza impegnativi sempre in montagna. Hanno anche delle scarpe eco che direi di andare a vederle. Guardiamo insieme lo shop. Calzature uomo, calzature donna, abbigliamento uomo, abbigliamento donna e hard goods, quindi l'attrezzatura. Vorrei vedere assieme a voi queste scarpe che le hanno resi famosi. L'85% del peso di queste scarpe è eco-friendly. Andando sotto c'è un altro tipo di scarpa che invece è il 95% eco-friendly e anche in questo caso vi spiegano un pochino meglio perché. Queste scarpe sono sia da uomo che da donna e anche qui se volete approfondire insomma mi pare ci sia molto materiale. Andiamo a vedere un po' di abbigliamento donna, lo sapete, scusate, uomini. Come vedete l'abbigliamento è proprio molto sportivo ed è più che altro per fare sport all'esterno e in condizioni di freddo o di vento. Comunque è l'unica azienda italiana di cui vi parlo oggi perché non ne ho trovate altre. Se voi ne conoscete altre scrivetelo nei commenti perché è molto difficile trovarne di sostenibili. Un altro marchio europeo di abbigliamento sportivo si chiama Nepra e all'interno dello store hanno activewear, quindi abbigliamento sportivo, lazywear, quindi un abbigliamento per stare comodi e poi vabbè una sezione che fa vedere tutti i prodotti. Anche loro propongono per uomo, unisex e donna. E c'è un po' di tutto, quindi c'è abbigliamento sportivo, manica corta, manica lunga, senza manica, top. Anche le calze, anche le calze che è sempre difficile trovare calze sostenibili. Tornando nella home avevo visto che qua spiegavano un pochino meglio cosa fanno, quindi non utilizzano chimici dannosi. I cartamodelli sono fatti in Finlandia, vengono tagliati e cuciti in Estonia e quindi loro dicono che è una filiera abbastanza corta. Insomma diciamo che dalla Finlandia arrivare in Estonia è un po' più lunga che fare nello stesso posto, però ci tengono a precisare che producono e spediscono soltanto all'interno dell'Europa. C'era anche la sezione sostenibilità, quindi se volete capire meglio vi fa vedere appunto da dove arrivano le varie cose, dove riciclano. Vedo che c'è anche India, di cui prima non parlavano. Non si può parlare assolutamente di filiera corta come la vendono loro, perché questa filiera non è corta, però ecco se volete approfondire meglio qua c'è tutta la spiegazione. Passiamo ad un altro, anche in questo caso è un marchio europeo, non so se questo marchio si pronunci VAUDE o VOD, anche in questo caso è un abbigliamento sportivo più tecnico che altro, quindi più per esterni e infatti parlano di winter cycling, di ski touring, di montagne eccetera. Non è possibile comprare online, ma sul sito troverete tutti i loro prodotti e quindi anche spiegato sia in base all'attività che dovete fare, tipo di prodotto, sia quali sono i materiali ecologici che loro utilizzano. Ad esempio questa bio-based plastic è molto interessante perché sarà la plastica del futuro che viene formata da materiale biologico che poi è biodegradabile, che la plastica che c'è adesso non è biodegradabile, biodegradabile, casomai è degradabile, che vuol dire che si spezzetta soltanto in pezzettini più piccoli, ma quei pezzettini continueranno ad esistere per sempre le microplastiche, di cui vi parlerò in un altro video. Qui c'è veramente molto impegno nel ricercare qualcosa di più sostenibile ed eco-friendly. Sono fatti in Germania e vedo che ci sono anche delle sustainable shoes, che in realtà è molto difficile trovare. Come vi dicevo prima però, su questo sito non è possibile comprare, a fondo pagina c'è un where to buy, quindi dove comprare, e ci sono gli store o i dealer, quindi i distributori. L'ultimo marchio di cui parliamo è un marchio fatto in Germania di abbigliamento sportivo uomo e donna. Ma andiamo a vedere il loro shop. Qui c'è anche una sezione filtri, addirittura con le certificazioni, se vogliamo che abbiano la certificazione GOTS, e ad esempio vengono fuori tutti i prodotti che hanno la certificazione GOTS. C'è una sezione dello shop per la donna, per l'uomo, per i bambini, anche per i prematuri, baby, nursing, che vuol dire per l'allattamento, insomma. Ci sono varie sezioni, intanto vediamo donna, poi spulciamo un pochino anche le altre, e c'è un abbigliamento comodo, anche underwear, quindi anche intimo se volete. Proviamo a vedere anche la sezione bambini velocemente, che fino ad adesso non abbiamo mai guardato. Per approfondire un pochino di più la filosofia che c'è dietro questo marchio, se volete, fondo pagina, nella sezione about us, spiegano un pochino meglio come è nato appunto questa azienda, di che cosa si occupano oggi, e soprattutto che tipi di tessuto utilizzano, che tipo di coloranti utilizzano, eccetera. Quindi c'è questo breve paragrafo che riassume un pochino la loro filosofia, perché sono sostenibili e perché sono green. Questo era l'ultimo marchio, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete commenti, consigli, oppure conoscete altri marchi di questo genere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie per essere stati con me! Ciao!